ora facciamo due pizze una funghi e una bufala ragazzi la pizza sembra una stupidaggine ma non è così non perché io sia bravo perché tutti riuscirebbero dopo l'esperienza necessaria a fare una pizza però comunque ci sono degli elementi basilari che non vanno traspurati ce n'è un'altra ce n'è un'altra ce l'abbiamo e poi basta terminate abbiamo gli straccetti sono buonissimi noce di manzo allora le due pizze sono una con solo bufala e l'altra è una funghi mamma mia con questa cosa la funghi la facciamo qua ecco la funghi la funghi la facciamo qua ecco la funghi ecco la funghi mentre la funghi la funghi ci prepariamo nel frattempo a manna due verdure gratinate che seguono fatti le due pizze unghie solo bufala e inforniamo ormai siamo diventati grazie